Vado subito a commentare questi tre punti con il direttore del Pescara. Importanti per la classifica, però che sofferenza. Sì, vincere facile è sempre difficile. Siamo molto contenti perché abbiamo ottenuto tre punti con una squadra molto organizzata e siamo molto felici. Soprattutto perché l'Ancona ha perso in maniera forse inaspettata, 3-0 in casa, e perché il Pescara si sta avvicinando al Cesena, che domani avrà un match sulla carta, non dico proibitivo, ma comunque difficile a Modena. Sì, l'Ancona sicuramente ha perso, ma non dobbiamo guardare quello, dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo cercare di ottenere più punti possibili, come si è detto, per cercare di arrivare più in alto possibile. Poi vedremo dove arriveremo. Il Pescara è passato con merito e in vantaggio nel primo tempo, però l'approccio della ripresa è stato facsimile a quello con la Carraresa. È tornata avanti e nuovamente il Gubbio si è fatto sotto. Perché questa paura di vincere? Non è paura di vincere, è vero, dobbiamo migliorare questo aspetto, perché è già capitato tante volte, ci rilassiamo dopo il vantaggio, soprattutto all'inizio del secondo tempo, e quindi dobbiamo cercare di migliorare. Il suo De Marchi, e dico suo perché è stato il primo acquisto della gestione Matteassi, pronti via, gol decisivo, non dico per la promozione, ma quasi del Sud Tirol. Sono contento per Michael, perché lo sanno tutti la stima che ho nei suoi confronti, però qua aveva perso quella fiducia che magari adesso ritroverà al Sud Tirol. Sono contento per lui che abbia fatto gol. Perché questo? Perché ha perso fiducia? Ma è partito titolare, ricordiamocelo, poi dopo Franco Ferrari si è guadagnato il posto, a suon di gol se l'è tenuto stretto, Michael non aveva più quella fiducia che aveva all'inizio, e quindi ha chiesto di andare via e a lui mi ha accontentato. Ci puoi dare qualche aggiornamento e poi andiamo in studio su Delizio, se il tampone è dato essito negativo finalmente? Ancora positivo. Ancora positivo. L'auricolare per il direttore Luca Matteassi, quindi vi ascolta sia Massimo che Fabio Ferraresi. Buonasera Matteassi, allora Fabio Ferraresi per te Luca. No, io a direttore da un po' che non lo vedo, non è venuto più in conferenza, volevo fare innanzitutto i complimenti per il mercato che è riuscito a fare in uscita, perché non era facile, il mercato di gennaio è sempre complicato, ha fatto delle uscite importanti, però volevo fare una domanda in merito a Ferrari. Io credo che il Pescara non possa prescindere da quest'attaccante, chiaramente lui fa il direttore, non si può sbilanciare, però volevo sapere cosa ne pensa rispetto a questa considerazione. Sono d'accordo che Franco stia facendo un gradissimo campionato, stia facendo veramente bene, però ha giocato le altre due partite titolare, insomma era stanco, quindi il mister oggi ha preferito far partire Cernigoi, che sicuramente nel primo tempo si è trovato, visto che il Gubbio ci aspettava, era molto chiuso e ha trovato delle difficoltà a trovare gli spazi, però uno spunto l'ha avuto, uno spunto importante, dispiace che non abbia fatto gol. Un'altra domanda per il direttore? Un'altra domanda, Fabio. Una domanda sempre rispetto ai nuovi acquisti, io credo che il Pescara abbia centrato gli obiettivi che si era prefissato, però come parlavo l'altra volta qua in studio con Massimo, non credi che Pontisso possa essere un giocatore in più la centrocampo? Ti dico la verità, io sono contento di avere un giocatore in più come Pontisso, perché è un giocatore importante, anche oggi penso che abbia fatto un'ottima partita, poi vedete tutti ogni tre giorni giochiamo, squalifichi, infortuni, il Covid, quindi è meglio avere una rosa ampia, l'abbiamo preso per questo. Massimo, sei tu una curiosità che poi salutiamo il direttore con uno sguardo alla Reggiano. No, purtroppo mi viene da dire, continuano le amnissie difensive, perché ci sono stati un paio di tagli nel primo tempo e nella ripresa, poco prima del 3-1 firmato da Ferrari, insomma, continuano un po' a preoccupare queste distrazioni, che cosa succede? Ma al primo tempo non penso, insomma, dai, siamo stati veramente, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, anche se abbiamo trovato un gubio molto chiuso. Nel secondo tempo sì, dopo il 2-1 abbiamo concesso quella palla dietro alle spalle dei difensori che ci poteva costare cara, meno male è andata bene. Io chiedo una cosa per salutare Matteassi in chiave lunedì prossimo, in chiave posticipo, perché la Reggiana ha pareggiato a Carrara, Cigarini è uscito anzitempo per un problema fisico e due spulsi. Si sta mettendo bene? No, sappiamo, ci hanno talmente una rosa ampia che non avranno problemi, insomma, per trovare gli undici titolari. Sappiamo che affronteremo una squadra veramente molto importante che è lassù che si sta giocando la vittoria del campionato, andremo là a fare la nostra partita e poi vedremo quello che succederà alla fine.